7-8.000 con recupero 400 in corsa lenta, guardate quel recupero lì che riuscite a tenere è quello della vostra corsa lenta, quello che vi permette di recuperare, perché io vedo gente fare corsa lenta a 4.20 e poi recuperi sulle ripetute a 4.40, lì c'è qualcosa che non va. La corsa lenta è una delle tipologie di allenamento più utilizzate dai podistiamatori al punto tale che qualcuno ha coniato il rapporto 80-20. Secondo Matt Fitzgerald infatti occorrerebbe correre l'80% del tempo in corsa lenta ed il 20% con sedute di qualità, ciò significherebbe comunque fare 10 allenamenti a settimana e di cui 2 sedute intense. Qualunque sia la vostra filosofia di corsa, l'allenamento lento rappresenta il 70% delle vostre uscite settimanali. Una delle domande che ci sono state poste sul canale è stata quella di capire come impostare il ritmo dell'allenamento lento e soprattutto quanti chilometri e come svolgerlo durante la settimana. Purtroppo per fortuna come tutte le cose la risposta dipende, noi sul sito di Run in Pit abbiamo spiegato una moltitudine di variabili che possono essere considerati nella scelta dell'allenamento di corsa lenta. Ad ogni modo basterebbe comunque ricordare che ci sono talmente tanti fattori che incidono sulla scelta di questa tipologia di allenamento che potremmo citare come essere per esempio il numero di chilometri, il valore dell'atleta, il periodo della stagione, la gara che si sta preparando e soprattutto il numero di allenamenti di qualità che vengono svolti durante una settimana, tutti questi fattori incidono nella scelta di quale dovrebbe essere sia la distanza sia la tipologia di corsa lenta. Fisiologicamente la corsa lenta apporta parecchi benefici che vanno dalla diminuzione della frequenza cardiaca e quindi da un possibile miglioramento del tra virgolette vostro motore, dall'aumento della capellarizzazione dei mitocondri e della trasformazione delle fibre veloci in fibre lente, comunque non preoccupatevi perché anche se fate tanti lenti riuscirete comunque a correre velocemente, ve lo assicuro. Psicologicamente poi la corsa lenta vi consente di focalizzarvi sulla biomeccanica di corsa e di conseguenza potrete dal punto di vista emozionale riuscire a migliorare anche nel modo in cui correte. Per tutte le domande su quale ritmo tenere, su come comportarsi e su come analizzare i dati post allenamento lascio la parola ad Andrea che dal campo di atletica di Garbagnate vi spiega come realizzare questa tipologia di allenamento e come svolgere al meglio. Ovviamente questi sono i consigli di una motore voluto, comportatevi però di conseguenze e se potete leggete l'articolo nel quale viene spiegato in maniera più dettagliata quali sono i possibili parametri da utilizzare per lo svolgimento di questa tipologia di allenamento. Ciao Andrea, ho visto che stamattina ti sei allenato e hai fatto un lento, cosa faremo oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio ancora un lento. Ma come interpreti questa tipologia di allenamento? Allora per me il lento è un allenamento di raccordo tra un lavoro e l'altro quindi i lavori in pista li devo fare bello fresco e quindi i lenti mi servono per rigenerare il corpo e recuperare bene. E ogni quanto suggerisci di svolgere questa tipologia di allenamento? Allora il lento secondo me è un allenamento che va fatto sempre tra un allenamento tosto e l'altro quindi se fate solo tre uscite alla settimana per dire un lavoro, un lento e un lavoro e poi di nuovo ancora si riparte con lento, lavoro, lento. Quindi è un allenamento che bisogna fare sempre per recuperare diciamo. E a livello di velocità come lo interpreti? Allora a livello di velocità sia sempre lì, bisogna correrlo facile, il ritmo del lento è un argomento così tanto dibattuto io lo tengo davvero lento ma perché devo uscire, devo essere rilassato, non devo affaticarmi quindi per me ho il ritmo che terrei per 50-60 km senza problemi, cioè devo arrivare a casa che non sono affaticato, anzi parto magari che ho le gambe un po' pesanti e arrivo alla fine che devo avere le gambe buone quindi è una roba che davvero mi porta ad ossigenare il corpo e a rilassarmi. E qual è secondo te la durata di questo allenamento? Anche qui la durata dell'allenamento deve essere, se è un rigenerante vero tra due lavori davvero tosti anche da 50 minuti o chi non è abituato a tenere così tanto anche 40 minuti io di solito lo tengo dai 70 agli 80 minuti. E invece per un amatore principiante? E' un amatore principiante bisogna capire sempre un po' il volume della settimana di chilometri diciamo che a me piace far fare 12-14 km almeno di lento quindi per essere un allenamento comunque che costruisce anche un po' e ci abitua a correre almeno 12-14 km E invece a livello di ritmo se dovessi farmi un esempio come faresti? Parli di relax ma cosa vuol dire? Allora tanti dicono 50 secondi dal ritmo gara dei 10.000 per me è troppo forte io personalmente lo tengo 90 secondi dal ritmo dei 10.000 circa poi dipende dalle giornate, ci sono le giornate che vado a 4.20 quindi sono a 80 secondi dal ritmo dei 10.000 o ci sono delle giornate che magari vado a 4.50 perché davvero non ho la gamba per correre quindi mi tengo quello che viene diciamo l'idea io dico sempre il ritmo del lento dovrebbe essere il ritmo che tenete nei recuperi delle ripetute quindi se fate che ne so 7-8.000 con il recupero 400 in corsa lenta guardate quel recupero lì che riuscite a tenere è quello della vostra corsa lenta quello che vi permette di recuperare perché io vedo gente fare corsa lenta a 4.20 e poi recuperi sulle ripetute a 4.40 lì c'è qualcosa che non va, vuol dire che a 4.20 non sto recuperando quindi dovrei farle a 4.40 ma questo succede soprattutto quando il podista corre solo 3 volte a settimana? ma fondamentalmente se corri 3 volte a settimana ci può stare comunque no, ho visto atleti da 6-7 allenamenti alla settimana che fanno così i lenti svelti e poi recuperi sulle ripetute molto lenti perché è il vero recupero loro e invece chi utilizza tecnologia per esempio la frequenza cardiaca cosa suggerisce? allora anche lì dipende, bisogna un po' capire io a 150 battiti ho visto l'altro giorno giravo 3.40 ma non me lo sognerei mai di fare un lento a quel ritmo lì dipende dicono che la soglia giusta sia 140 battiti per un lento rigenerante e circa 150 per un lento normale bisogna sempre poi valutare di caso in caso più o meno una linea guida buona anche perché comunque la fisiologia di ogni singola persona è diversa esatto, ripeto, l'altra volta a 155 battiti medi ero a 3.33 di media per dire quindi il giusto di me non valeva e invece come giudichi chi utilizza la potenza nella corsa? so che quando corri con me usi stride o comunque me lo soffi? no, te l'avrei voluto soffiare per fare dalle prove comunque no, lì vabbè, poi Max dilate il tuo consiglio però valutate sempre dai recuperi delle ripetute la potenza che tenete cercate di tenerla nei lenti poi e per quanto riguarda l'alimentazione post lento c'è qualcosa in particolare che suggerisci oppure no? l'alimentazione fondamentalmente dopo un lento la teniamo sempre uguale adesso che fa caldo magari integriamo con qualche sale in più e invece vedo, a me non succede, che ti capita spesso di doppiare che consiglio dai? guarda, doppiare è una cosa che si fa secondo me dopo che avete raggiunto i 7 allenamenti a settimana da un bel po' di mesi, quasi un anno allora dopo si può incominciare a raggiungere un doppio lento almeno anche lì bisogna valutare, ho visto persone fare un doppio e stare in crisi per una settimana di sovraccarico quindi è un allenamento da valutare bene sì, secondo me è molto rischioso, per noi non lo è più ma ci abbiamo passato dei periodi in cui ovviamente avevamo difficoltà io al dire il vero no perché alla fine ne parlavo in questi giorni ho cercato di costruirlo, ci è arrivato a 7 allenamenti dove non avevo praticamente mai stanchezza ci ho aggiunto il doppio ovvio che ho sentito gente che faceva 4 allenamenti a settimana e voleva aggiungerci il doppio così non ha senso, è meglio fare 5 allenamenti prima e poi 6 e poi 7 e poi aggiungerci i doppi però anche lì bisogna vedere un po' come modularli mi è capitato di vedere qualcuno aggiungere un doppio allenamento ed era già subito uno special block a medio al mattino e ripetuto al pomeriggio diciamo che non è la maniera migliore per aggiungerlo beh assolutamente, il consiglio è quello di andare lentamente va bene, grazie Andrea, ci vediamo al prossimo ciao alla prossima dimenticavo di dirvi che io sono Massi se vi è piaciuta la recensione iscrivetevi al canale e mi raccomando, stay strong ciao alla prossima